Un passo indietro da parte del Comune per i tali del 20% previsti per i lavoratori delle cooperative che gestiscono i servizi essenziali a Frosinone. È quello chiesto dalla CISL Funzione Pubblica di Frosinone attraverso un sit-in organizzato nella mattinata in piazza 6 dicembre. Siamo presenti qui stamattina a manifestare contro il taglio del 20% sui servizi alle cooperative, servizi pubblici essenziali che partono dalla manutenzione del verde, dai servizi culturali, servizi sportivi, asiliniti e quant'altro. Per sollecitare questa amministrazione a cercare di mantenere intatti queste risorse in modo da salvaguardare sia i lavoratori che tutta la cittadinanza che purtroppo non può permettersi il lusso di pagare servizi privati. La Confederazione questa mattina è di supporto alla FP della CISL di Frosinone perché è importante che questa battaglia venga assunta anche a livello, come dire, a tutto tondo, a 360 gradi. Perché qui non si tratta solo di tutelare i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative, si tratta di servizi e quando parliamo di servizi significa anche andare a tutelare l'utenza. L'utenza, che in questo caso parliamo delle fasce più deboli di popolazione, tradotto significa che i tagli si ripercuotono come un finanziamento occulto da parte della cittadinanza nei confronti dei servizi pubblici. La manifestazione è stata convocata proprio in vista del Consiglio Comunale di venerdì 15 marzo per cercare di riportare l'attenzione degli amministratori ai tagli delle ore e gli stipendi dei lavoratori che si occupano del supporto agli asili nido, all'assistenza sugli scuolabus, la manutenzione del verde e poi al controllo delle strisce blu, degli impianti sportivi, dei servizi culturali e della viabilità.